Venerdì e sabato 24 e 25 marzo alle ore 20 e 30 e sabato 26 marzo alle ore 17 e 30 si terrà presso il Teatro Immacolata di Napoli lo spettacolo Pazzaria, la commedia musicale in due atti che andrà in scena sul palcoscenico del quartiere Arenella e di Vincenzo Cacciuttolo e la rappresentazione è dedicata proprio all'autore di Origini Procidane e poi trapiantato a Napoli scomparso negli anni scorsi. La regia è affidata a Marianna Ambrosino che ascoltiamo ai nostri microfoni. Pazzaria, una commedia musicale in due atti, cosa vedrà il pubblico? Vedrà la pazzia più vera e più forte, quella di colui che si è ucciso per salvarci, quale pazzia più grande? E Gesù l'ha fatto per noi, si è ucciso per salvarci, è più pazzo una persona del genere o no? Una commedia che si sposa col prossimo periodo pasquale? Infatti, è proprio per questo che abbiamo scelto queste date, proprio per far sentire più forte il momento della morte di Gesù. Una scenografia insomma importante alle sue spalle, diversi attori? Molti, molti e tutti uniti nel ricordo dell'autore di quest'opera, tutti quanti ci siamo uniti per portare in scena quest'opera che riteniamo una delle più belle che abbia mai scritto, sia dal punto di vista musicale che per il testo, dall'autore Vincenzo Cacciuttolo. Che ha insomma dato anche diverse dimostrazioni del suo talento proprio in questo Teatro Immacolata negli anni scorsi? Assolutamente sì, un grande artista, un grande uomo di cultura, un grande uomo dal punto di vista umano, ci ha lasciato tantissimo e noi con quest'opera la vogliamo onorare, speriamo che lo riusciamo ad onorare. Vediamo le date, 24, 25, 26 marzo, in scena pazzaria, praticamente la passione di Cristo. La passione di Cristo visto dagli occhi, dal cuore, dalla mente di Vincenzo Cacciuttolo.